Ho detto un amico mio di venire qua che appunto mi spiegava che insomma è il mio tipo di tavola, lo conoscevo? Si, lo conosco la più chi è, non l'avevo riconosciuto all'inizio. Ha avuto dei problemi, non riesce più a disegnare come prima, se vai e gli compri qualcosa sicuramente gli fai del bene, forse era un problema. Grazie. 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 Grazie.